Quando il fagotto comincia a suonare quel tema goffo e al tempo stesso baldanzoso che accompagna Topolino giù per una scalinata di pietra, seguito da un'armata di scope rianimate da un incanto, personalmente provo un brivido nostalgico. E come me, molti altri che sono cresciuti con quel capolavoro della Disney, Fantasia, dell'anno 1941. Perché non c'è niente di più incisivo di una bella storia in musica, come lo è il poema sinfonico composto da Paul Ducat nel 1897, che la Disney scelse per la sua carica melodica e narrativa. Paul Ducat scrisse un'opera magistrale che onorava le vicende affascinanti di quel maldestro apprendista stregone. Vicende che il compositore non inventò di sana pianta, bensì prese in prestito da un altro autore che esattamente cento anni prima le aveva scritte sotto forma di ballata. Tale autore era Wolfgang Goethe. La storia dell'apprendista stregone fu composta da Goethe nel 1797 «E ora, vecchia scopa, vieni! Prendi gli stracci miseri! È da tempo ormai che servi! Ora esegui i miei ordini!» La ballata racconta di uno stregone che, lasciato lo studio, incarica il suo apprendista di dare una pulita. L'apprendista però non vuole rimboccarsi le maniche e quindi ruba un incanto dal libro del suo maestro, il libro magico, e lo mette in atto. Tuttavia, non padroneggiando bene la magia, gli sfugge di mano. Dunque la scopa rianimata per portare acqua in casa continua a farlo, senza mai fermarsi. L'apprendista, non sapendo cosa fare, ricorre ai colpi d'ascia. Spezzetta la scopa che però, anche in pezzi, continua a portare acqua, quindi moltiplicandosi. Tutto questo finché non ritorna lo stregone, arrabbiatissimo, e mette tutto a posto con una formula magica. Una storia che conosciamo benissimo perché è praticamente identica come la vediamo in fantasia. Tuttavia non è finita qui, perché per scoprire le vere origini della storia dell'apprendista stregone bisogna fare un altro passo indietro, stavolta di 1500 anni, perché questa ballata non era tutta farina del sacco di Goethe. Nel secondo secolo d.C. un autore di nome Luciano, nato a Samosata, ovvero una città della provincia romana della Siria, scrisse un insieme di racconti nel racconto, dal titolo L'incredulo. Ovvero, in una cornice narrativa, un gruppo di personaggi si narrano delle storie a vicenda, a sfondo soprannaturale, tra le quali spicca il racconto di un personaggio insolito che ha viaggiato in lungo e largo per l'Egitto, terra da sempre considerata magica, un personaggio di nome Eucrate. Eucrate viaggiò nella terra dei faraoni risalendo il Nilo fino ai colossi di Memnone per udire lo straordinario suono che producevano ogni mattina al sorgere del sole. Si trattava di due statue situate a Tebe, in Egitto, e che gli storici greci attribuivano a Memnone, l'eroico semidio, appartenente alla stirpe reale troiana, e figlio della dea Aurora. I colossi avrebbero dovuto celebrare la sua morte contro Achille, ma si tratta di una rivisitazione leggendaria, poiché, secondo molti storici, le statue in realtà appartenevano al faraone Amenhotep III. Tuttavia, la leggenda vuole che il vento caldo del primo mattino, riscaldato dal sole, passasse da una cavità di una delle due statue e, fuorescendo dalla bocca, produceva un suono molto particolare, che fungeva anche da oracolo. Un suono che i greci interpretavano come il saluto del semidio alla madre Aurora, ogni mattina. Tradizione che poi scomparve dalla storia, poiché nell'anno 199 i romani fecero un restauro e, a quanto pare, distrussero questa cavità, eliminando la possibilità di ricevere oracoli dal colosso di Memnone, ogni mattina. In ogni caso, dopo la visita ai colossi, Eucrate conobbe un sacro scriba della città di Menfi, sempre rasato, pensoso, parlante il greco con accento straniero, altissimo, col naso camuso, le labbra sporgenti, le gambe sottili. Viene descritto come un uomo mirabile, sapiente, e dotto in tutta la cultura egiziana, che aveva speso 23 anni nei luoghi segreti del sottosuolo per apprendere la magia. Tale sacro scriba era Pancrate, un sacerdote di Iside, e potente stregone. Il nome stesso, infatti, significava onnipotente. Eucrate divenne amico di quello straordinario sacerdote e stregone, tanto da farsi dare una dimostrazione della sua magia, e in particolare dell'incantesimo per rianimare oggetti lignei, ovvero pestelli che non dobbiamo immaginare come i nostri pestelli, che sono corti, si maneggiano con una sola mano e servono per pestare all'interno di un recipiente di dimensioni abbastanza contenute, il mortaio. Ecco, in questo contesto di questo racconto dell'Egitto tardo-antico, il pestello è in realtà un bastone da maneggiarsi in piedi con due mani per frantumare ingredienti in un recipiente posto per terra. Ma oltre ai pestelli, l'oggetto che ci interessa veramente è un altro, ed è la scopa. Questo sacerdote di Iside e stregone egizio, quindi, per rianimare pestelli e scope, poneva sopra di essi un mantello, poi recitava una formula magica, dopo la quale gli oggetti si rianimavano, assumendo forme che erano simili agli esseri umani, agli occhi degli altri, e dunque cominciavano ad occuparsi di mansioni da schiavi, come lo erano rassettare, mettere a posto, cucinare, portare acqua in casa. Dopodiché, al termine di tutti questi compiti, quando lo stregone lo riteneva necessario, pronunciava una seconda formula che poneva fine all'incantesimo. Un incantesimo di cui Pancrate era gelosissimo, e infatti ogni volta che lo metteva in atto aveva cura di mascherare le parole che utilizzava, in modo da non insegnarle ad Eucrate, però Eucrate era curiosissimo. E quindi un giorno origliò la prima formula magica, quella che serviva a iniziare l'incantesimo, e attese che lo stregone se ne andasse di casa per sbrigare i suoi affari. Scelse un pestello, gli mise sopra un mantello, recitò la formula magica e comandò al pestello, rianimato magicamente, di andare a prendere l'acqua. Il pestello andò fuori e tornò con un'anfora piena d'acqua. Il compito era stato assolto. Eucrate si disse soddisfatto, tanto gli bastava, perché era riuscito nell'intento, ovvero di fare un incantesimo. Dunque comandò al pestello di smetterla, basta portare acqua dentro. Tuttavia, il pestello non lo ascoltò. Si voltò, tornò fuori, prese un'altra anfora piena d'acqua e la portò dentro. E così continuò a fare, più e più volte, fino ad allagare la casa. Eucrate non sapeva cosa fare. Dunque, prese un'accetta, fece a pezzi il pestello e le due metà di questo oggetto rianimato, si rialzarono, presero un'anfora ciascuna e continuarono a portare acqua dentro. Eucrate era disperato. Non sapeva cosa fare, anche perché non conosceva la seconda formula magica, quella che serviva per porre fine all'incantesimo. Dunque, non gli restò altro da fare che attendere l'arrivo del maestro, dello stregone, Pancrate, il quale giunse, capì subito cosa stava succedendo e infuriato pronunciò la seconda formula magica, rimettendo tutto a posto e scomparendo per sempre dalla vita di Eucrate, ovvero il maldestro apprendista stregone. Questo racconto del II secolo d.C., scritto in lingua greca, ci spiega molte cose. Se non fosse per il pestello usato al posto della scopa e di Eucrate al posto di Topolino, praticamente è identico a fantasia. Ma non è finita qui, perché volendo potremmo scavare ancora più a fondo, o meglio, più indietro nel tempo. Perché l'ambientazione dell'antico Egitto non è stata scelta a caso in questo racconto, visto che l'Egitto è da sempre ritenuta terra magica, in virtù della mitologia, delle leggende, che già circolavano nella terra dei faraoni, alcune delle quali riguardavano proprio l'utilizzo di libri rubati, di incantesimi eseguiti in modo maldestro e di maestri infuriati. Luciano di Samosata potrebbe aver preso ispirazione per la scrittura del suo apprendista stregone proprio dalle tradizioni dell'antico Egitto e più precisamente da un racconto scritto in lingua demotica del III secolo a.C. che aveva come protagonista il principe Kahemuaset, o più comunemente conosciuto come Setne, quarto figlio di Ramses II e sacerdote di Ptà a Menfi. Da alcuni definito tra i primi archeologi del mondo, considerato il suo impegno per lo studio delle opere dell'antico regno, antico per lui, ed è straordinario pensare che coloro che noi riteniamo antichi avessero a loro volta un'antichità. Questo ci fa capire anche quanto sia soggettiva la classificazione dello scorrere del tempo. Setne era un saggio scriba, e portentoso mago, proprio come lo era Pancrate nel racconto greco di Luciano. Setacciava il deserto di Menfi alla ricerca di un libro magico scritto dal dio Thoth che avrebbe permesso a chiunque l'avesse studiato di comprendere il linguaggio di tutte le creature del mondo e molte altre cose. Setne, questo libro, lo trovò nella tomba sotterranea di Naneferkapta, illuminato da un bagliore sovrannaturale, nel sottosuolo, proprio come Pancrate aveva appreso le sue capacità. Tuttavia, il libro era protetto dallo spirito dello stesso Naneferkapta e della moglie. Costoro erano stati distrutti e maledetti dal dio Thoth in persona, adirato per aver perduto il libro. Lo stesso destino che attendeva Setne si avesse osato impadronirsene, ma il principe, ovviamente, non ascoltò gli avvertimenti e si ritrovò coinvolto in una macabra ricerca tra le tombe antiche per recuperare i corpi mummificati della moglie e del figlio di Naneferkapta, rimuovere la maledizione e pacificare il dio Thoth. Una vera e propria avventura mitologica, rievocata ancora oggi nelle storie moderne a tema magia d'Egitto, come il ciclo di film di Indiana Jones o la mummia, oltre allo stesso apprendista stregone messo in opera in fantasia della Walt Disney, le cui origini storiche sono davvero più lontane di quanto si possa immaginare, addirittura millenarie. Insomma, Topolino e gli stregoni egizi come Pancrate, Kaemoiset e Naneferkapta hanno qualcosina in comune. Se questa storia ti ha appassionato, mi raccomando, seguimi, così non perderai l'occasione di vivere le prossime leggende affilate. Ciao. Leggende affilate, gli episodi più avventurosi delle antiche cronache narrati da Lorenzo Manara.